ecco l'albero magico io indovinerò la carta che tu hai scelto devi partire dal tronco e poi per capirci giri a destra quando torni indietro però non devi ricontare il tronco ti faccio un esempio diciamo che decidi 6 allora parti fai 1 2 3 giri a destra 4 5 e 6 poi ti fermi torni indietro ricontando sempre la stessa 1 2 3 non conti il tronco cioè questo 3 4 5 e 6 capito vai adesso prova tu un numero qualsiasi fai il tronco poi giri a destra e quando torni indietro non riconti il tronco cioè il 7 di denari è fatto so quale scelto il 10 di denari ciao gari